Come avete fatto innamorare? Devo farla, sono qui per questi ragazzi, anche voi che dovete farvi innamorare, statevi da fare, vengo qui e voglio vedere quanto bravi siete. E come mai hai scelto proprio la città di Palma per presentare il suo progetto? Il progetto è il suo progetto, presenterò il progetto, mi hanno detto che siete più belli d'Italia, è vero? Sono qua per vedere. Comunque siete ben fighi, siete in centro dell'Italia, vedete la gente che va al nord, vedete la gente che va al sud, quindi chiacchierate tanto, parlate tanto, vettete laia alla moscia, la sapete più lunga del resto dell'Italia, la sapete più lunga del resto dell'Italia, quindi vedremo se siete veramente fighi. un consiglio ai fotografi che ci saranno anche oggi, perché nella fotografia è importante provocare e sapere lo fare? Non è una fotografia, senti la parola provocare, parola provocare, parola provocare. Tutti dovrebbero provocare se l'arte lo può se la tua vita lo può di qualcosa grazie